Io non so, non so da quanto tempo voi conosciate Loredana, però io la conosco da molti anni e non peraltro quando l'ho conosciuta la chiamiamo già la chiacchierona, figuriamoci per quello no, comunque era una cosa interessante da sentire e d'altra parte è un'etichetta che è veramente grande come questa, non solo è grande ed è internazionale ma è anche vasta e quindi abbraccia tutti i tipi di musica e tutti i tipi di inventiva quando c'è un po' di cervello poi nella musica non fa certo male dicevo tutti i tipi di musica e tutti i tipi di pubblico perché adesso infatti sto per dirvi un nome per esempio che forse farà scuotere particolarmente amici che non sono stati, non dico del tutto, ma non stati, sì ecco forse dico del tutto allora dico del tutto, non sono stati del tutto scossi fino adesso questa è la volta buona, signore e signori Ornella Vanoni è l'emozione di volta, capita rarissimamente, dimmi, adesso mi aiuterà perché io veramente io volevo dire che, volevo dire come fai finta male non riesco, infatti l'attore non penso che lo farò mai comunque Ornella Vanoni è venuta qui perché senz'altro ha qualcosa anche lei di nuovo da presentarci qualcosa di nuovo però che segue una fila, mi pare, un filo logico soprattutto qualcosa di nuovo vecchio, il secondo disco oggi le canto così quindi ce n'è stato già un precedente soprattutto di chi è autore e questo è tutto dedicato a Tenko e Paoli sono in questa occasione, canterò che cosa c'è e vedrai, vedrai quindi due pezzi con Ornella Vanoni e due pezzi veramente da ascoltare magari ci sediamo, d'accordo? allora Ornella Vanoni, eccola qua, tutta per noi grazie a tutti che cosa c'è c'è che mi sono innamorata di te c'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente di tutta quella gente che non sei tu che cosa c'è c'è che mi sono innamorata di te c'è che ti voglio tanto bene che il mondo mi appartiene il mondo mio che è fatto solo di te come ti amo non posso spiegarti non so cosa sento per te ma se tu mi guardi negli occhi negli occhi un momento ecco che c'è ecco che c'è ecco che c'è ecco che c'è vedrai 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 che cambierà forse non ti fa disperare il pensiero di me ti fa disperare il pensiero di te e di te che non puoi darmi di più vedrai 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 che cambierà forse non sarà domani ma un bel giorno cambierà vedrai 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 come o quando ma vedrai che cambierà grazie